Buongiorno, mi chiamo Elisabeth Rodini, sono la direttrice dell'Accademia Americana di Roma, The American Academy in Rome, e noi siamo uno di circa 40 istituzioni e accademi straniere a Roma, che è una cosa unica nel mondo, da quanto io sappia. Noi credo che rappresentiamo una presenza molto importante per la città, perché siamo un punto di riferimento per tantissimi artisti, architetti, scrittori, persone creativi che vengono a Roma per conoscere meglio questa città e per conoscerci meglio. All'Accademia Americana noi siamo veramente fondata su uno studio di architettura, i primi fondatori dell'Accademia erano architetti, il più famoso era Charles Fallon McKim, dello studio McKinney & White, e anche oggi gli architetti rappresentano un punto fondamentale del nostro lavoro, quindi noi siamo veramente contenti di essere parte di questo festival e del vostro progetto qui, e di essere a Roma, dove continuiamo sempre a imparare e anche speriamo di contribuire al discorso che fate attorno all'architettura qui. Grazie. Grazie.